Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori in direzione mare, 5 km di coda tra la Strassigna e Ginestra, in direzione Firenze, rallentamenti tra Empoli e Ginestra Fiorentina. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. In A1 in direzione Roma ci sono code a tratti tra il Bivio per la variante di Valico e Calenzano e tra Firenze in Pruneta e in Cisa Reggello. In A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!